Il relatore di oggi infatti è Paolo Lotti, laureato in scienze geologiche, è dottore di ricerca in scienze della terra, ha ottenuto il dottorato nel 2014 presso il nostro dipartimento, dopodiché ha iniziato una serie di collaborazioni, si è recato all'Università di Innsbruck, nell'ambito di un progetto sulla scienza e tecnologia di materiali geologici molto utilizzati come le zeoliti. Nel 2016 ha iniziato una collaborazione ed ha partecipato attivamente come postdoc a lavori di ricerca presso il sincrotrone Elettra di Trieste e ancora direi super giovane, quindi giovanissimo, assume il ruolo di ricercatore presso il nostro dipartimento di scienze della terra dove si afferma nello studio delle proprietà fisico-chimiche e le potenziali applicazioni tecnologiche non solo di minerali come le zeoliti ma anche di borati, arsegnati e fosfati di terre rare, queste famose terre rare. Quindi non mi resta che dare uno speciale benvenuto a Paolo e quindi di invitarlo a condividere e a prendere la parola, vi auguro buon ascolto, vi ricordo che al termine del seminario avrete la possibilità di ovviamente fare le vostre domande. Grazie mille Patrizia e buonasera a tutti. Grazie, allora Patrizia ha già accennato l'argomento dell'APGO di oggi, le georisorse. Cominciamo subito però con il definire in una maniera abbastanza precisa cosa sono le georisorse, di cosa stiamo parlando. E partirei dal significato stesso di risorsa che l'enciclopedia Treccani ci dice essere una qualsiasi fonte o mezzo che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno specialmente in situazioni di necessità. Quindi diciamo che semplificando parecchio la questione possiamo dire che una risorsa è un qualcosa che ci è utile se non essenziale. E quindi che cos'è una georisorsa? Beh una georisorsa è una sostanza naturale originata da un processo geologico che per le proprie caratteristiche fisiche e chimiche è utile o addirittura essenziale per la nostra società. Stiamo sostanzialmente parlando di tutte quelle risorse naturali che sono comprese all'interno di questo rettangolo rosso, quindi risorse naturali di origine non biologica e non rinnovabili alla scala del tempo umano che vengono tradizionalmente suddivise in queste quattro grandi macro-categorie. I combustibili fossili per la produzione energetica, i metalli, i cosiddetti minerali e rocce industriali e i materiali da costruzione, cioè le materie prime per cementi e calcestruzzi. Ok abbiamo detto di cosa stiamo parlando, abbiamo detto che le georisorse sono utili alla nostra società ma la domanda successiva è a livello pratico quanto le georisorse sono utili nelle azioni che noi persone normali compiamo ogni giorno? Come quanto sono rilevanti nelle azioni quotidiane delle persone? Per rispondere a questa domanda vorrei cambiare un attimo la prospettiva e chiedervi quanto ritenete utili questi due oggetti. Il computer inteso in senso lato, includiamoci dentro anche lo smartphone e il dentifricio. Due oggetti apparentemente molto diversi tra di loro che però hanno una base comune piuttosto robusta, cioè sono entrambi oggetti molto tipici della società contemporanea. E la domanda a questo punto è quali e quante georisorse servono per fare un computer o un tubetto di pasta dentifricia? Perché è evidente che se noi riteniamo utili, se non addirittura essenziali, il computer e il dentifricio, dobbiamo necessariamente ritenere utile lo sfruttamento delle georisorse che sono necessarie per produrre questi due oggetti. Beh, la risposta è circa 35 diversi minerali e metalli per fare un computer, tra cui tutta una lunga lista di metalli ovviamente con diverse proprietà elettroniche e una decina per fare un tubetto di dentifricio. Giusto per fare qualche esempio, gli abrasivi sono di fatto minerali rocce macinati e il fluoro che notoriamente è presente all'interno di un dentifricio, risalendo tutta la catena deriva da un minerale, la fluorite, che è il fluoruro di calcio. Quindi diciamo, in questa brevissima introduzione, spero di avervi fatto intuire quanto in realtà, parlando di rilevanza delle georisorse, non stiamo solo parlando di rilevanza per grandi processi economici, stiamo parlando di una rilevanza che ha un impatto sulle azioni che noi compiamo ogni giorno, nel momento in cui utilizziamo uno smartphone o un computer, nel momento in cui ci laviamo persino i denti con un dentifricio. Ma quanto questa rilevanza e quindi questa nostra dipendenza dalle georisorse è un qualcosa di origine moderna e quanto invece è intrinseca nelle società umane? Cercherò di dare una breve risposta facendo una passeggiata attraverso la storia delle georisorse. La chiamo in questo modo perché non si tratta di un'accurata ricostruzione storica, non avrei neanche le competenze onestamente per poterlo fare. Sono giusto qualche esempio preso da diverse epoche storiche, da diverse fonti di letteratura. E partiamo proprio dai Flintstones, o meglio dalle Flintstones, perché stone in inglese significa roccia, pietra, flint invece significa selce. E le selci sono state tra le primissime georisorse che sono state sfruttate dalle società umane. Si tratta di rocce sedimentarie con clasti di natura silicea che hanno una proprietà fisica particolare. Nel momento in cui vengono fratturate danno luogo ad una tipica frattura concoide che genera dei bordi taglienti particolarmente utili per produrre oggetti di uso comune, specialmente in epoca preistorica, come queste punte di trecce o dei primitivi coltelli. Lo sfruttamento delle selci non era solo limitato a, diciamo, il rinvenimento casuale di un sasso sul gretto di un fiume. Abbiamo diverse prove di una vera e propria attività mineraria in epoca neolitica. Questo è un sito archeologico nei pressi di Madrid, di età neolitica, nel quale sono state rinvenuti più di 4.000 pozzi di escavazione di noduli di selce. Quindi capite che in questo caso dobbiamo necessariamente parlare di una vera e propria attività mineraria, per quanto primitiva, che tra l'altro ci lascia capire come queste società neolitiche avessero comunque delle competenze geologiche primitive, ma tutto sommato sufficientemente avanzate da permettere di poter comprendere dove si trovassero i noduli di selce all'interno di una successione sedimentaria. E poi le argille. Le argille sono delle fondamentali georisorse per tutte le società umane e le sfruttiamo ormai quasi ininterrottamente da circa 20.000 anni, dalle primissime terrecotte che sono state fatte facendo essiccare le argille al sole, alle più moderne ceramiche, passando da quel grande miglioramento tecnologico avvenuto nel XIII secolo quando in Cina si scopre che utilizzando una specifica argilla, il caolino, è possibile cuocere le ceramiche ad una temperatura più alta ottenendo in questo modo delle ceramiche decisamente più resistenti rispetto alle precedenti terrecotte, quelle che chiamiamo porcellane. Ma le argille sono state anche fondamentali per lo sviluppo della successiva metallurgia, perché per poter lavorare i metalli e soprattutto per poterli estrarre dai minerali che li contengono come i solfuri e gli ossidi, è necessario indurre delle reazioni di ossido riduzione che riducano i metalli, che sono presenti come cationi all'interno di solfuri e ossidi, al loro stato metallico. Ora, per indurre queste reazioni redox è necessario raggiungere delle temperature moderatamente elevate, dove all'interno di forni costruiti con mattoni fatti partendo da misceli di argille e altri minerali non metallici. Ora, già che parliamo dell'epoca antica, una delle civiltà indubbiamente più note è quell'egizia. La civiltà egizia è anche rilevante in ambito minerario perché è stata con ogni probabilità la prima civiltà che ha sviluppato uno sfruttamento organizzato delle proprie risorse minerarie. Gli egizi estrevano diversi metalli, dall'oro, dei sedimenti fluviali dell'attuale Sudan utilizzato per la produzione di gioielli e maschere funerarie, fino al rame dei giacimenti del deserto del Sinai per la produzione di armi e oggetti in bronzo. Dell'attività mineraria egizia abbiamo anche qualche testimonianza scritta, ad esempio questa, relativa al II secolo a.C., quindi siamo ormai nella fase tarda della civiltà egizia, da parte di un geografo greco, Agatarchide di Cnido, che ci dà, tra le altre cose, utili informazioni su quelle che erano le tecniche utilizzate nelle miniere d'oro di questa epoca da parte della civiltà egizia. Leggiamo infatti che le dure rocce delle montagne venivano fratturate dal calore prodotto dalla combustione di legno e in seguito gli uomini cominciavano a lavorarle con i loro attrezzi in ferro, quindi un'utile informazione per capire come estraevano di fatto le rocce utilizzavano la combustione del legno con una tecnica di origine antichissima che con ogni probabilità veniva utilizzata anche in epoca neolitica nel sito di Casa Montero, nei pressi di Madrid, cioè sostanzialmente con il fuoco si scaldavano le rocce per poi raffreddarle repentinamente con un getto d'acqua in modo da indurre uno shock termico che ne favorisse la fratturazione e in questo modo poi i minatori potevano asportare con più facilità i detriti che si venivano a formare. Agatarchide ci dà anche informazioni sulle terribili condizioni di lavoro di uomini e donne che lavoravano in queste miniere, ad esempio ci dice che c'erano giovani uomini sotto i 30 anni, forti e vigorosi, che macinano i frammenti di rocce in mortai di ferro e le donne, tre per ogni lato, continuano la lavorazione fino a quando sono ridotti in polveri finissime, queste povere donne sono completamente nude e le scavazioni sono molto estese tanto da raggiungere la costa. Tenete a mente queste parole perché vedremo tra qualche minuto che circa due millenni dopo le condizioni di lavoro non erano poi tanto diverse nelle miniere di carbone dell'Inghilterra del XVIII secolo e del XIX secolo. Arriviamo poi, scusate, all'età romana. I romani danno un grande imbulso all'estrazione mineraria, da un lato perché in quest'epoca si amplia la varietà di georisorse che viene sfruttata, ad esempio per la prima volta vengono estratti e sfruttati a larga scala metalli quali piombo, zinco e mercurio, ma i romani utilizzano anche per la prima volta in modo sistematico l'energia idraulica per la fratturazione delle rocce a larga scala, utilizzando una tecnica definita ruina montium, della quale abbiamo anche delle testimonianze da parte di Plinio il Vecchio che nel primo secolo dopo Cristo era procuratore nel nord della Spagna dove c'erano le miniere d'oro che attualmente prendono il nome di Las Medulas. In cosa consisteva questa tecnica? Consisteva sostanzialmente nel convogliare dell'acqua presa da fiumi o torrenti, specialmente in area montana, in canali artificiali e quest'acqua serviva poi a indurre delle frane o addirittura a fare collassare dalle gallerie sotterranee, perché in questo modo era più facile poi recuperare i detriti che venivano trasportati da qualche parte per poter essere lavorati e i quali poi veniva estratto l'oro verosimilmente utilizzando la tecnica della batea per separare l'oro di maggiore densità dagli altri minerali meno densi. Ora, gli effetti di questa tecnica estrattiva si possono vedere ad esempio in questa foto, questa è una foto attuale dell'area di Las Medulas e questo paesaggio che penso molti di noi possono indubbiamente considerare molto bello, in realtà non è stato originato da eventi, da agenti naturali, atmosferici o geologici, è stato originato dall'azione antropica, nel caso specifico da due secoli di sfruttamento delle miniere d'oro da parte dei romani. Qui si vede anche un'antica galleria romana sul fianco della montagna ormai collassato. I romani però non estraevano solamente oro e metalli, i romani producevano anche calcestruzzi utilizzando cementi pozzolanici e ovviamente sfruttavano su larga scala tutte quelle georisorse non metalliche che servivano per produrre il cemento pozzolanico come i calcari e le rocce piroclastiche tanto comuni nelle aree magmatiche del Lazio e della Campania. E con i cementi pozzolanici i romani hanno fatto meraviglia, hanno costruito ad esempio la cupola del Pantheon di Roma che è tutt'oggi il più grande manufatto in calcestruzzo non armato che sia mai stato costruito. Poco dopo in diverse parti del mondo tra India, Cina e Medio Oriente si comincia ad affinare sempre di più la tecnica di unire in una lega metallica il ferro e il carbonio proveniente dal carbone per la produzione di cosa? Dei primi veri acciai moderni decisamente più resistenti rispetto ai primitivi manufatti in ferro. Arriviamo al 1556 quando un tedesco agricola pubblica il primo vero trattato di tecnica mineraria il deremetallica il deremetallica è costituito da 12 libri in cui vengono descritte diverse tecniche di estrazione dei minerali e di lavorazione dei minerali stessi come questa tecnica che è qui rappresentata in questa immagine tratta proprio dal deremetallica di separazione gravitativa sfruttando un flusso d'acqua dei minerali metallici più densi dalla ganga silicatico-carbonatica meno densa che cos'è la ganga? La ganga sono quei minerali non utili che sono associati ai minerali utili all'interno della roccia che li contiene. Il deremetallica però non è solo un trattato di tecnica mineraria è anche soprattutto nel suo primo libro una preziosissima fonte di informazioni su come venisse percepita l'attività mineraria cinque secoli fa nel primo libro Agricola che è uno stremo sostenitore del sfruttamento delle georisorse cerca di spiegare le ragioni del perché sia necessario lo sfruttamento minerario citando anche quelle che sono le obiezioni che all'epoca venivano mosse. Questo è un passaggio piuttosto lungo però ve lo voglio leggere perché secondo me è molto molto interessante. Agricola scrive ma oltre a questo l'argomento più forte dei detrattori dell'attività mineraria è che i campi sono devastati dalle operazioni minerarie motivo per cui un tempo gli italiani erano avvertiti per legge che nessuno doveva scavare la terra per i metalli e quindi danneggiare i loro campi molto fertili i loro vigneti e i loro oliveti non so se sia vero non cita fonti in questo caso Agricola inoltre affermano che i boschi e i boschetti vengono abbattuti poiché c'è bisogno di una quantità infinita di legno per legname macchine e per la fusione dei metalli e quando i boschi e i boschetti vengono abbattuti vengono sterminate le bestie e gli uccelli moltissimi dei quali forniscono un cibo piacevole e gradevole per l'uomo inoltre quando i minerali vengono lavati l'acqua che è stata utilizzata avvelena i ruscelli e i torrenti e distrugge i pesci o li allontana pertanto gli abitanti di queste regioni a causa della devastazione dei loro campi boschi boschetti ruscelli e fiumi trovano grande difficoltà a procurarsi il necessario per la vita e a causa della distruzione del legname sono costretti a maggiori spese in origini edifici così dicono è chiaro a tutti che c'è un danno maggiore dall'estrazione mineraria rispetto al valore dei metalli che l'estrazione produce poi agricola cerca di confutare tutto questo però quello che emerge che è una certa percezione negativa dell'attività mineraria che abbiamo oggi non del tutto ingiustificata dal momento che è oggettivo che una certa estrazione mineraria incontrollata anche in epoca molto recente ha creato disastri ambientali ingiustizie sociali bene questa percezione negativa non è un'invenzione moderna evidentemente esisteva anche cinque secoli fa ai tempi di agricola e specialmente da parte di quelle popolazioni che vivevano nel pressi delle aree minerarie che vedevano la loro vita e magari la loro attività agricola abbastanza impattata da quello che era l'impatto ambientale dell'attività mineraria però se ricordiamo le parole di Plinio anche nei suoi scritti magari o meglio in questo passaggio si può percepire quasi una certa ostilità quando dice le crepe fatte nelle viscere della terra sono così pericolose che sarebbe più facile trovare perle sul fondo del mare che fare cicatrici nelle rocce quanto abbiamo reso pericolosa la terra insomma questa ostilità invece è completamente assente in agricola che appunto come dicevo è uno streno sostenitore dell'attività mineraria passano due secoli e arriviamo alla rivoluzione industriale la rivoluzione industriale segna indubbiamente un cambio di passo per lo sfruttamento delle georisorse da un lato perché vengono sfruttati i combustibili fossili per la produzione di energia inizialmente il carbone tanto diffuso in Gran Bretagna e poi soprattutto verso l'otto e il novecento anche petrolio e gas naturale ma quello che cambia è in gran parte sono i volumi delle georisorse che vengono sfruttate considerate questo dato che non è relativo a una georisorsa ma un prodotto finito la ghisa che è una lega di ferro e carbonio che contiene un po' più di carbonio rispetto a quanto ne abbia l'acciaio la produzione di ghisa in Inghilterra passa da 25 tonnellate anno nel 1720 a 2 milioni di tonnellate anno nel 1860 bene provate a immaginare cosa significhi questo per l'estrazione degli ossidi di ferro che sono la materia prima per la produzione della ghisa un aumento di volumi enorme ma non sono solo i volumi è anche la varietà delle georisorse che vengono sfruttate a cominciare a subire un aumento esponenziale ad esempio in questo periodo viene sfruttato in grande quantità lo zolfo che tra l'altro per un certo periodo di tempo proviene quasi esclusivamente dalle miniere siciliane quindi si tratta anche di un aspetto che ha una certa rilevanza economica sociale e culturale per il nostro paese lo zolfo serviva a produrre l'acido solforico e l'acido solforico allora così come oggi è utilizzato in una lunga serie di reazioni di interesse industriale ne cito solo una l'acido solforico viene fatto reagire con un'altra georisorsa l'apatite un fosfato di calcio per produrre l'acido fosforico e l'acido fosforico a sua volta serve per produrre i fertilizzanti fosfatici utilizzati in agricoltura quindi vedete che anche i fertilizzanti fosfatici usati in agricoltura derivano poi da delle georisorse da dei minerali e questo è un altro settore che esplode durante la rivoluzione industriale nell'ottocento però vengono presi anche i primi provvedimenti per contrastare le durissime condizioni di lavoro in ambito minerario nel 1842 infatti il conte Shakespeare porta al Parlamento britannico un rapporto corredato di immagini per descrivere le difficili e terribili condizioni di lavoro di donne bambine e bambini all'interno delle miniere di carbone dell'Inghilterra guardate queste immagini e insomma a me vengono anche un po' in mente le parole scritte due millenni prima da Gatarchide di Cnido parlando delle miniere d'oro di epoca egizia ora queste immagini hanno avuto un grande effetto su quella che era l'opinione pubblica dell'epoca al punto che il Parlamento britannico emanò il Minds Act che dietò a donne bambine e bambini di età inferiore di 10 anni di lavorare all'interno delle miniere e arriviamo ai giorni nostri perché questo crescita esponenziale dello sfruttamento delle georisorse non si è mai più fermata dalla rivoluzione industriale al punto che negli ultimi 100 anni abbiamo sfruttato una quantità di georisorse mai sfruttata prima e anzi si prevede che nei prossimi 30 anni sfrutteremo una quantità di georisorse superiore a quella che abbiamo sfruttato negli ultimi 100 anni e giusto per darvi dei dati un po' quantitativi vi faccio vedere questo grafico è relativamente datato al 2011 tiene in considerazione il periodo dal 1980 al 2011 circa ora lasciando stare la parte verde che tra l'altro è quella che aumenta di meno che è relativa alla biomassa questo grafico mostra come si è aumentato in questi 30 anni lo sfruttamento dei metalli che è questa trazione qui azzurrina dei combustibili fossili per la produzione di energia ma soprattutto come si è aumentato più che raddoppiato il consumo dei cosiddetti minerali e rocce industriali queste sono delle georisorse a cui uno magari di primo acchito non pensa perché diciamo nell'immaginario collettivo se uno parla di georisorse di risorse minerarie pensa semmai subito al metallo ma in realtà la stragrande maggioranza delle georisorse che sfruttiamo non sono metalli sono minerali e rocce non metallici faccio l'esempio del tra virgolette più povero di tutti sabbie e ghiaie sabbie e ghiaie sono georisorse molto economiche che però ad oggi sono di gran lunga la georisorsa più sfruttata perché? perché le sabbie e le ghiaie servono per fare gli inerti dei calcestruzzi e vengono sfruttate ovunque nel mondo anche qui da noi basta fare un giro per la pianura padana per rendersi conto di quante cave ci siano che hanno proprio lo scopo di estrarre sabbie e ghiaie prevalentemente per la produzione di inerti per calcestruzzi ma nuovamente non è solo una questione di volumi è anche una questione di varietà delle georisorse che sfruttiamo perché per produrre un pannello solare o una paleolica del ventunesimo secolo serve una quantità di elementi chimici che è decisamente maggiore rispetto a quella che serviva per fare un'automobile di inizio novecento ed è più del doppio degli elementi chimici che sostenevano da un punto di vista tecnologico la rivoluzione industriale del diciottesimo secolo quindi non andiamo poi tanto lontano dalla realtà se affermiamo che oggi noi sfruttiamo per sostenere la nostra tecnologia quasi l'intera tavola periodica degli elementi e questo ci pone di fronte ad una domanda che io ritengo fondamentale che è quale e quanto sfruttamento minerario ci serve per sostenere la cosiddetta transizione energetica cioè la transizione verso una produzione di energia prevalentemente elettrica che sia sganciata dall'utilizzo dei combustibili fossili e utilizzi in primis le risorse rinnovabili come l'energia eolica e l'energia solare beh è evidente che questa transizione deve essere sostenuta da un esteso sfruttamento delle georisorse perché per poter ottenere energia da poter trasformare energie eoliche solare in energia elettrica è inevitabile lo sfruttamento di tutte quelle georisorse che ci forniscono questi elementi che permettono di costruire questi due oggetti qua diventa quindi fondamentale e questa sarà verosimilmente la sfida per la nostra società il tema della sostenibilità dell'ossfruttamento delle georisorse sostenibilità che tra l'altro non è un unico tema sono almeno tre temi diversi sostenibilità ambientale dell'estrazione mineraria cioè minimizzare l'impatto che l'estrazione mineraria sull'ambiente circostante è disponibilità delle georisorse per le generazioni future soprattutto delle georisorse critiche per le quali non esistono alternative che devono ovviamente essere rese disponibili fin tanto che le alternative o uno sviluppo tecnologico non ci sarà alle generazioni che verranno dopo le nostre e infine sostenibilità economica perché è evidente che dobbiamo riuscire a fare tutto questo garantendo un profitto economico all'attività di estrazione mineraria perché è piuttosto ovvio che nessuno può permettersi di lavorare in condizioni di perdita economica faccio anche un altro esempio perché ho citato la transizione energetica bene ma in realtà possiamo anche prescindere dalla transizione energetica per parlare di questo perché oggi con questo oggetto uno smartphone possiamo fare tutta una serie di cose ovviamente grazie alle app che abbiamo installato in quell'oggetto lì per le quali negli anni 90 servivano una quindicina di oggetti diversi però per produrre quei diversi quei 15 oggetti diversi negli anni 90 serviva circa la metà degli elementi chimici che servono a produrre oggi uno smartphone perché? perché uno smartphone è un oggetto tutto sommato di tecnologia avanzata è un mini computer insomma e avete visto nelle slide iniziali quanti diversi minerali e metalli servono per fare un computer cito giusto un elemento che è fondamentale nella produzione degli smartphone l'indio l'indio è un metallo raro raro a tal punto che di fatto viene estratto esclusivamente come sottoprodotto in miniere di altri metalli eppure questo elemento questo metallo è fondamentale per la produzione di uno smartphone e questo può portarci inevitabilmente ad una domanda diciamo fondamentale vi ho parlato dell'aumento dello sfruttamento delle georisorse sia in termini di volume che in termini di varietà di georisorse sfruttate ora la domanda che potrebbe sorgere beh ma questo sfruttamento così estremo ci sta portando all'esaurimento delle georisorse che sostengono l'attuale livello di tecnologia e benessere ora non è facile dare una risposta a questa domanda nel senso che non si può rispondere a questa domanda semplicemente con un sì o con un no perché come tante cose ovviamente la risposta ad una domanda del genere è necessariamente complessa e articolata cercherò di dare quantomeno delle parziali risposte e di rispondere in maniera oggettiva a questa domanda partendo da qui questo è un saggio che è stato pubblicato nel 1972 da alcuni studiosi che teorizzavano l'insostenibilità della crescita esponenziale non voglio entrare nel merito del saggio anche perché è un saggio prevalentemente di economia e politica sociale per il quale non ho le competenze per poterlo giudicare l'ho citato semplicemente perché il saggio cita un aspetto che è funzionale per parlarvi di quello di cui vi voglio parlare gli autori infatti tra le altre cose citano l'elevato tasso di consumo delle georisorse in funzione delle riserve disponibili come una delle cause dei limiti della crescita esponenziale e in questo saggio riportano ad esempio questa tabella qui vi chiedo un attimino di concentrazione non è niente di particolarmente complesso comunque dove nella colonna 3 viene riportato un cosiddetto indice statico che cos'è questo indice statico? è banalmente il rapporto tra le riserve di una specifica georisorsa ad esempio di molibdeno fratto il consumo annuo di quella georisorsa ora se noi dividiamo le riserve del molibdeno per il consumo annuo di molibdeno otteniamo il numero di anni residui prima dell'esaurimento della georisorsa ora nel loro lavoro questi studiosi hanno poi ricalcolato questo indice tenendo conto di due fattori un fattore è quello che inevitabilmente nel tempo il tasso di consumo della georisorsa sarebbe aumentato quindi hanno modellizzato questo aumento del tasso di consumo della georisorsa e poi ovviamente hanno anche considerato che si sarebbero scoperti nuovi giacimenti e per fare questo hanno arbitrariamente moltiplicato per 5 il valore delle riserve della georisorsa ottenendo quindi per ogni georisorsa nella colonna 6 un valore ricalcolato di questo indice statico ora dal 1972 al 2020 sono passati 48 anni e potete vedere che guardando quei numeri c'è qualcosa che non va perché dovremmo essere prossimi all'esaurimento di gas naturale e petrolio e dovremmo avere esaurito l'argento cosa che non è successa cos'è che è andato storto in questo calcolo meglio cos'è che c'è che non andava in questo calcolo ora per capire cos'è che non andasse bisogna comprendere una questione che è fondamentale anche per comprendere quali devono essere quali saranno le future strategie di sfruttamento delle georisorse bisogna innanzitutto comprendere che cosa si intende con riserva di una georisorsa una riserva è quella porzione di un deposito minerario che a seguito di tutta una serie di analisi geologiche ovviamente ma non solo anche economiche legali ambientali sociali eccetera in quelle condizioni nelle condizioni diciamo vigenti viene considerata in grado di produrre un profitto economico nel momento in cui viene coltivata cioè in soldoni è quella porzione di un giacimento minerario che si è estratta mi permette di produrre profitto economico tutte quelle altre porzioni del giacimento che contengono tutte quelle altre porzioni del giacimento che contengono la risorsa ma per le quali alle condizioni vigenti non è certo che si possa produrre profitto economico non vengono conteggiate nel computo delle riserve quindi le riserve possono aumentare nel tempo sì certo possono aumentare o diminuire ci sono diversi fattori che possono fare aumentare o diminuire una riserva nel tempo il primo fattore che può fare aumentare una riserva è il più ovvio il più lapalistiano e la scoperta di nuovi giacimenti ma poi ci sono anche altri fattori qui ne ho citati solamente due tra i più importanti l'aumento del prezzo della giurisorsa ad esempio che può avvenire anche in un arco temporale molto breve infatti nella parte finale di questa presentazione vedremo l'esempio di una giurisorsa che ha subito un aumento del prezzo incredibile nell'arco di pochissimo tempo ora se nell'arco di poco tempo il prezzo di una giurisorsa aumenta allora delle porzioni di giacimento che prima non erano economicamente sfruttabili possono diventare economicamente sfruttabili e quindi entrare nel computo delle riserve e poi c'è un altro fattore che invece tende ad essere efficace più nel medio-lungo periodo che è il miglioramento tecnologico che generalmente nell'arco di qualche decennio tende a rendere più efficienti i processi di estrazione e lavorazione dei minerali utili estratti riducendo i costi di nuovo se riduco i costi allora delle porzioni di giacimento che qualche decennio fa magari non erano economicamente sfruttabili diventano economicamente sfruttabili ed entrano a far parte del computo delle riserve vediamo un esempio il rame cito il rame perché è citato proprio in questo saggio in cui si dice che il rame nel 72 ha un'aspettativa di vita di 36 anni al presente tasso di consumo che sarebbero effettivamente solo 21 se consideriamo l'inevitabile aumento del tasso di consumo del rame e 48 anni se moltiplichiamo per 5 le attuali riserve di rame ora 48 anni fa proprio casualmente l'intervallo di tempo che intercorre tra il 1972 e il 2020 ora quest'anno abbiamo avuto tutta una serie di problemi ma di sicuro non quello dell'esaurimento del rame infatti possiamo vedere dal rapporto che annualmente lo US Geological Survey pubblica sulle materie prime che quest'anno al 2020 le riserve mondiali di rame di georisorse di rame ammontano circa 870 milioni di tonnellate con un consumo nel 2019 che è stato di 20 milioni di tonnellate e infatti le riserve di rame sono costantemente aumentate nel tempo dal 1900 oggi non c'è stato un singolo anno per cui le riserve di rame non fossero maggiori rispetto all'anno precedente e questo nonostante il tasso di consumo del rame si è aumentato anche in maniera esponenziale qui il tasso di consumo è questa linea grigia che vedete è aumentata significativamente nel corso dell'ultimo secolo tuttavia le riserve sono aumentate più del tasso di consumo perché per quei fattori che abbiamo visto prima sicuramente la scoperta di nuovi giacimenti il miglioramento tecnologico il miglioramento tecnologico che ha permesso di sfruttare economicamente concentrazioni di rame sempre più basse guardate questa è la linea rossa la concentrazione di rame limite per il quale si poteva ottenere diciamo una coltivazione economica del giacimento era superiore al 2% in peso all'inizio del 1900 ora siamo a valori dello 0,5% in peso cioè possiamo sfruttare economicamente delle rocce che contengono solfuri di rame ad esempio con una concentrazione dello 0,5% in peso ad esempio nei porfiri copper dei depositi di porfiri copper contenuti all'interno di rocce porfiriche specialmente comuni nell'area della catena andina e poi non ultimo l'aumento del prezzo del rame questo grafico riporta anche nella linea grigia tratteggiata il prezzo del rame normalizzato all'inflazione nel corso dell'ultimo secolo potete vedere che il prezzo del rame è rimasto relativamente costante anzi tendenzialmente è diminuito verso la fine del ventesimo secolo poi all'inizio del ventunesimo ha subito un incredibile aumento poi seguito da un crollo durante la recessione del 2008 poi di nuovo un aumento a cosa è dovuto questo aumento al boom economico cinese dell'inizio del ventunesimo secolo che ha fatto aumentare repentinamente la domanda di rame che tutti sappiamo servire per la produzione ad esempio dei cavi elettrici e ovviamente a questo è seguito un significativo aumento del prezzo di questa georisorsa che cos'è questa? questa è una tavola periodica degli elementi modificata ve la mostro perché a questo punto possiamo dare una parziale risposta alla domanda di prima sicuramente possiamo dire di non essere in una situazione catastrofica di imminente esaurimento delle principali georisorse che sostengono l'attuale livello di tecnologia e benessere tuttavia esistono delle condizioni di criticità esistono delle condizioni di criticità anche perché come detto prima ormai sfruttiamo quasi l'intera tavola periodica degli elementi in questa tabella periodica degli elementi modificata vediamo delle iconcine di uno smartphone su tutti quegli elementi che servono per produrre uno smartphone e poi cosa ci dice questa tabella l'area l'area di ogni singolo elemento è proporzionale alla concentrazione media di quell'elemento nella crosta quindi vedete ad esempio che l'ossigeno e l'ossigeno e il silicio sono i più abbondanti però attenzione che concentrazione media di un elemento nella crosta non significa necessariamente disponibilità di quell'elemento per l'estrazione mineraria perché poi quell'elemento deve anche essere concentrato in un deposito che ne consenta una estrazione economicamente proficua perché vedete che le terre rare che sono queste tutto sommato non sono poi tanto poco concentrate il problema è che si o meglio hanno una concentrazione media che non è poi tanto bassa il problema è che si concentrano poi in un singolo giacimento abbastanza difficilmente e poi ci sono i colori i colori ci dicono tutti quegli elementi per cui abbiamo piena disponibilità e quelli invece che avvicinandosi verso il rosso cominciano ad essere a rischio di disponibilità nel prossimo futuro e questa questione della criticità nella disponibilità delle georisorse comincia ad essere presa su serio anche ad un livello politico infatti a partire dal 2011 la Commissione europea stila ogni tre anni un rapporto sulle cosiddette critical raw materials cioè sulle cosiddette materie prime critiche perché lo fa? I motivi sono esplicitamente riportati alla prima pagina del rapporto pubblicato quest'anno la pressione sulle risorse aumenterà a caso dell'aumento della popolazione mondiale dell'industrializzazione della digitalizzazione della crescente domanda dei pesi in via di sviluppo e della transizione verso la neutralità climatica con metalli minerali e materiali biotici utilizzati nelle tecnologie e nei prodotti a basse emissioni l'Ox prevede che la domanda globale di materiali sarà più che raddoppiata dagli attuali 79 miliardi di tonnellate a 167 miliardi di tonnellate nel 2060 la concorrenza globale per le risorse diventerà feroce nel prossimo decennio e la dipendenza da materie prime critiche potrebbe presso sostituire la dipendenza odierna dal petrolio è chiaro che se ci sganciamo dalle tecnologie che ci permettono di produrre energia utilizzando combustibili fossili quella che è l'attuale dipendenza dai combustibili fossili si tramuterà inevitabilmente in una dipendenza verso quei metalli che consentono di sfruttare l'energia eolica e l'energia solare ad esempio cito un esempio il neodimio il neodimio è una terra rara che serve per fare dei magneti dei forti magneti che servono all'interno di una paleolica quindi inevitabilmente svilupperemo una certa dipendenza verso il neodimio o una certa dipendenza verso il litio che serve per fare le batterie agli ioni di litio questa mappa invece ci fornisce un'informazione su quali sono i paesi che attualmente sono i principali produttori per alcune materie prime critiche e vi faccio notare che in alcuni casi sono paesi produttori in regime di quasi monopolio guardate come il Brasile produca il 92% del neodimio messo sul mercato ogni anno Sudafrica ad esempio produce diciamo produce in regime di quasi monopolio 4 dei 6 elementi del gruppo di platinoni e guardate invece la lunga lista per cui è la Cina il principale produttore mondiale l'86% delle terre rare leggere e pesanti viene dalla Cina l'89% del magnesio l'80% di gallio germanio eccetera eccetera quindi è chiaro che quando si parla di criticità di una materia prima la questione principale è la criticità dell'approvvigionamento di questa materia prima infatti com'è che la Commissione europea e non solo lei definisce la criticità di una materia prima lo fa in funzione di due fattori il primo è l'importanza economica e tecnologica della materia prima che qui è espressa in questo grafico sull'asse delle ascisse il secondo è il rischio di approvvigionamento qui è espresso sull'asse delle ordinate dove con il rischio di approvvigionamento sicuramente c'è una componente più prettamente geologica che riguarda la disponibilità geologica di quella georisorsa e quindi quante riserve ci sono ma non solo ci sono ovviamente anche delle questioni un po' più politiche e commerciali cioè quanto per il mercato europeo nel caso specifico possa essere rischioso l'approvvigionamento di una georisorsa che è prodotta prevalentemente in un altro paese con cui potrebbero esserci problematiche di rapporti commerciali o politici nel futuro ad ogni modo nell'ultimo rapporto del 2020 la commissione europea definisce materie prime e critiche tutte quelle che sono all'interno di questa area e vedete che a parte pochissime eccezioni come ad esempio la gomma naturale materiale biologico che tra l'altro è lì tra coloro che sono sospesi e il silicio metallico che è un prodotto diciamo di derivazione secondaria si tratta o di minerali o di metalli che da minerali vengono estratti cioè le materie prime e critiche secondo l'unione europea la commissione europea sono delle georisorse dimenticavo prima di dire che poi alcuni studi più recenti stanno considerando anche un terzo asse che definirei virtuoso cioè quello della sostenibilità ambientale dell'approvvigionamento di quella specifica georisorsa perché qui ho cerchiato il litio l'ho cerchiato perché adesso in questi minuti che mi rimangono in questi dieci minuti circa che mi rimangono vorrei parlare un po' più nello specifico di una di queste georisorse ed entrare magari anche in questioni mineralogiche e geologiche un pochino più dettagliate perché per il momento ho parlato in termini generali ho scelto il litio anche perché il litio è un esempio meraviglioso di come la rilevanza di una georisorsa possa radicalmente cambiare in un arco di tempo brevissimo stiamo parlando in questo caso di vent'anni innanzitutto che cos'è il litio il litio è il più leggero di tutti i metalli vedete nella tavola periodica sta qui numero 3 è un metallo alcalino come il sodio il potassio il rubidio il cesio a valenza 1 più ed è un elemento fortemente litofilo che quindi durante i processi di cristallizzazione frazionata del magma tende a concentrarsi nel magma residuale nei fusi residuali quindi lo possiamo trovare concentrato prevalentemente in quali rocce nelle pegmatiti granitiche spesso e volentieri anche con concentrazioni elevate di altre materie prime interessanti come cesio e tantaglio il litio però è anche un elemento fortemente solubile in acqua e quindi è molto idrofilo può essere facilmente lisciviato dalle rocce vulcaniche che lo contengono o da acque superficiali oppure può concentrarsi anche in quei fluidi detti idrotermali che si smescolano dal magma quando si hanno attività di vulcanismo superficiale quindi il litio non è che sia un elemento estremamente abbondante a livello globale nel nostro pianeta però fortunatamente ha un comportamento geochimico e geologico che tende a concentrarlo nelle porzioni più superficiali della crosta dove fortunatamente possiamo andarlo ad estrarre e sfruttare perché insomma è una cosa la palistiana però noi possiamo estrarre solamente quei minerali che si trovano nelle porzioni più superficiali della crosta terrestre per ovvi motivi a cosa serve il litio? beh in realtà fino all'altro ieri e con l'altro ieri intendo il ventesimo secolo serviva era importante ovviamente però serviva per le applicazioni che potremmo quasi considerare di nicchia produzione di smalto per ceramiche produzione di leghe metalliche leggere prevalentemente utilizzate nell'industria aerospaziale e produzione di specifici farmaci antidepressivi sicuramente o meglio sicuramente non lo so ma difficilmente alla fine del ventesimo secolo il litio sarebbe stato considerato una georisorsa critica da qualunque ente governativo poi però sono state inventate le batterie agli ioni di litio quelle che utilizziamo ognuno di noi nei nostri smartphone che hanno reso molto più efficiente lo stoccaggio di energia in questi dispositivi io mi ricordo quando ho comprato il mio primo cellulare con una batteria agli ioni di litio lo potevo caricare una volta ogni dieci giorni era meraviglioso adesso sono tornato a caricare il cellulare tutti i giorni semplicemente perché non ho più un cellulare in mano questo è un computer è un mini computer e non potrebbe esistere senza questa tipologia di batterie e vedete che ormai la produzione mondiale di litio serve per il 56% proprio per produrre batterie ricaricabili ovviamente sono rimaste anche tutte le altre applicazioni storiche con ceramiche e vetri tra le primissime il litio nelle ceramiche e nei vetri serve come fondente quindi per abbassare la temperatura di produzione di questi oggetti garantendo quindi un risparmio economico ma serve anche perché conferisce una bassa espansività termica alla ceramica al vetro che viene prodotto in modo tale che non subisca tratturazione nel momento in cui dovesse subire uno shock termico immaginate pensate semplicemente a quelle pentole in ceramica che vanno nel forno e le possiamo tirar fuori è importante che abbiano una bassa espansività termica perché non si tratturino dal forno al tavolo il litio ha anche questo tipo di applicazioni e domani beh domani domani se veramente usassimo dovessimo usare delle auto elettriche o quantomeno delle auto ibride allora il litio servirebbe ancora di più perché servirebbe per produrre le batterie di queste automobili e per produrre una batteria di un'automobile elettrica o ibrida serve molto più litio di quanto ne serva per produrre la batteria ricaricabile di uno smartphone ed è chiaro che aumenterebbe in modo spropositato la domanda di litio domanda di litio che comunque potete già capire è aumentata significativamente dal 2000 a oggi e con l'aumento così repentino della domanda potete anche intuire che si è aumentato il prezzo della giurisorsa questo grafico di nuovo abbastanza datato ma ho anche il dato aggiornato che dopo vi dico questo dato questo grafico ci mostra come si è aumentato il prezzo del litio dalle 1500 dollari alla tonnellata del 2002 alle 4500 dollari alla tonnellata del 2013 con solo una minima flessione nel 2010 insomma un po' seguito di quella depressione economica del 2008 il dato aggiornato l'ho cercato l'altro giorno ad oggi il litio costa le materie prime di litio costano attorno alle 10.000 dollari alla tonnellata quindi da 1500 a 10.000 dollari alla tonnellata nell'arco di 20 anni è un aumento spropositato clamoroso che ovviamente ha portato anche ad un significativo aumento della produzione di queste giurisorse che sempre secondo i rapporti annuali dell'istituto geologico americano sulle materie prime sono passate da 6.600 dollari scusate da 6.600 tonnellate nel 1996 a 85.000 tonnellate nel 2018 erano 69.000 solo l'anno prima e le riserve sono aumentate o diminuite beh se ricordiamo quanto detto in precedenza sul rame possiamo intuire che le riserve del litio siano aumentate e in effetti sono passate da 2 milioni a 17 milioni di tonnellate dal 1997 al 2020 perché una tale domanda di litio ha portato ovviamente a cercare giacimenti di litio a scoprire nuovi giacimenti di litio ha portato anche ad una evoluzione tecnologica addirittura lo vedremo tra poco ad un'evoluzione nello sfruttamento delle giorisorse con un ampliamento della tipologia di giorisorse di litio che vengono sfruttate e ovviamente un prezzo della giorisorsa che aumenta di un ordine di grandezza comporta che ampie porzioni di giacimenti che alla fine del XX secolo non erano economicamente produttive oggi sono inevitabilmente produttive e da dove viene il litio andiamo un attimino a parlare un po' più di ciccia geologica e mineralogica le giorisorse storiche del litio sono queste silicati di litio prevalentemente la più importante lo spodumene lo spodumene è un pirosseno un pirosseno di litio e alluminio poi abbiamo anche delle miche di litio come la pidolite e la zimbaldite un po' meno importanti però perché come vedete contengono tendenzialmente una percentuale in peso di litio più bassa rispetto a quella presente nello spodumene questi minerali si concentrano dove? all'interno di pegmatiti granitiche spesso appunto anche in condizioni in cui abbiamo concentrazioni elevate pure di cesi e tantaglio quindi ad esempio si può pensare di sfruttare contemporaneamente sia il litio che il tantaglio se ci sono le condizioni per poterlo fare come si estrae poi il litio da questi minerali? Beh prima di tutto qui c'è l'esempio dello spodumene lo spodumene deve essere insomma qualunque materia prima tendenzialmente dopo che viene estratta viene macinata ad una granulometria adeguata e dopodiché si separa il minerale utile dai minerali non utili che sono associati adesso quindi dopo aver ottenuto un concentrato di questo minerale utile nel caso specifico dello spodumene lo si arrostisce a circa 1050 gradi celsius che è una temperatura piuttosto elevata bisogna spendere energie e quindi soldi per poter arrivare a quella temperatura in modo tale da indurre delle transizioni di fase c'è da un punto di vista diciamo termodinamico una transizione di fase lo spodumene cambia la propria organizzazione la propria struttura cristallina cambia l'organizzazione periodica degli atomi nello spazio e così facendo si vengono anche a creare delle fratture in questi cristalli di spodumene di modo tale che successivamente quando lo spodumene viene attaccato dall'acido solforico che ritorna di nuovo in una reazione chimica viene facilmente lisciviato in questo ambiente acido si forma il solfato di litio che poi viene fatto reagire per ottenere attraverso diversi processi o il carbonato di litio o soprattutto oggi per la produzione di batterie batterie ricaricabili l'idrossido di litri o monoidrato l'IOH per H2O ok svantaggi di questa operazione per arrivare a questo bisogna rostire lo spodumene bisogna rompere i legami covalenti che il silicio e l'alluminio formano con l'ossigeno i legami covalenti sono legami forti quindi bisogna spendere un bel po' di energia vantaggi di questa tipologia di georisorse nelle pegmatiti di solito i minerali di litio sono abbastanza concentrati quindi c'è una buona quantità di risorse appunto spesso sono anche associate ad altre georisorse come il tantaglio che possono eventualmente essere sfruttate come sottoprodotti amplificando il profitto economico però soprattutto negli ultimi vent'anni si è sviluppata una nuova tipologia di estrazione del litio da una georisorsa che prima non veniva sfruttata quella delle brines cosa sono le brines le brines sono dei fluidi acquosi naturali salini con una concentrazione salina maggiore di quella dell'acqua di mare dove si possono trovare queste concentrazioni così per saline che spesso sono prossime alla saturazione dei salines disciolti o in ambienti aridi semi aridi continentali associati a vulcanismo superficiale oppure sempre in questi ambienti in acquiferi sotterranei appunto i persalini e il litio da queste tipologie di fluidi da queste brines viene estratto come? con una tecnica che poi non è tanto diversa da quella con cui si estrae il sale marino nelle saline nelle saline l'acqua di mare viene fatta evaporare in vasche di decantazione precipita il cloruro di sodio che viene poi recuperato in questo caso il processo è piuttosto simile questa è un'immagine del salare di Atacama sull'altopiano cileno uno dei più importanti giacimenti di litio oggi in questo caso le brines sono presenti negli acquiferi sotterranei vengono pompate all'interno di vasche di decantazione dove l'acqua evapora precipita nei sali in essa disciolti il primo è il cloruro di sodio seguono quelli più solubili come il cloruro di potassio e il solfato di potassio eccetera eccetera tranne i sali di litio perché il litio è estremamente solubile in acqua quindi quello che si fa in questo caso non è recuperare i sali che precipitano ma è recuperare l'acqua che a questo punto è prevalentemente arricchita di litio viene portata quest'acquina in raffinerie dove il litio insomma viene fatto precipitare sotto forma di cloruri idrossidi o carbonati di litio e qui abbiamo ottenuto a questo punto la materia prima che poi eventualmente viene nuovamente processata per poter essere utilizzata nei processi successivi il vantaggio di questa tecnica è che tendenzialmente ha dei costi magari minori rispetto allo sfruttamento delle pegmatiti lo svantaggio rispetto alle pegmatiti che la concentrazione di litio nelle brines è tendenzialmente minore di quella che si ha nei migliori giacimenti di tipo pegmatitico dove si trovano le riserve mondiali di litio oggi beh la stragrande maggioranza delle riserve sono proprio di quest'ultima tipologia le brines tra l'altro prevalentemente concentrate in una parte di mondo abbiamo detto che le troviamo in ambienti aridi o semi-aridi continentali con vulcanismo superficiale stiamo tendenzialmente parlando degli altopiani delle Ande Cile, Bolivia e Argentina hanno una grande quantità delle riserve mondiali di litio tuttavia la maggior parte queste sono le riserve per quanto riguarda lo sfruttamento più della metà del litio viene ancora estratto scusate da viene ancora estratto da le risorse storiche nelle pegmatiti quindi prevalentemente spodumene ma anche tutta questa è un'altra mappa un po' più aggiornata ma anche tutta una serie di pegmatiti in cui il minerale utile di litio è specifico proprio solo di quel giacimento sono quasi tutti silicati in alcuni casi fosfati o nel caso molto particolare del bacino di Iadar in Serbia la Iadarite che è un silico borato di litio e sodio in realtà ci sarebbe anche una terza tipologia di georisorse sfruttata anch'essa in tempi recenti si tratta di argille argille che si vengono le argille tendono a formarsi per alterazione superficiale specialmente di rocce vulcaniche in condizioni di piacca leggermente acido si tratta di argille arricchite in litio argille di litio vera e propria come l'ectorite o se no argille che hanno diciamo il litio prevalentemente adsorbito per attrazione elettrostatica in prossimità di quella che è l'interstrato della struttura dell'ergille per chi diciamo sa come sia fatta ok chiudo con una considerazione la considerazione è che se oggi ci lamentiamo che il petrolio non è omogeneamente distribuito nel mondo e siamo dipendenti dai pesi produttori di petrolio beh tra queste immagini soprattutto per quella che abbiamo vista prima quando parlavo dei report dell'Unione Europea è chiaro che se in futuro la tecnologia ci porterà a produrre energia o ad essere dipendenti da altre forme di georisorse e queste georisorse spesso non sono omogeneamente distribuite nel mondo e quindi saremo probabilmente dipendenti da altre aree di produzione chiudo con questa citazione dal Dere Metallica di Agricola ovviamente lui l'ha scritta Prodomo Sua perché voleva giustificare la necessità dell'estrazione mineraria credo però che sia tutto sommato tuttora tuttora attuale e vi ringrazio per la vostra attenzione Grazie a tutti